E' un vero e proprio boom di donazioni per il progetto lanciato dall'Università di Pisa legato all'acquisizione del plasma delle persone guarite dal coronavirus per un'iniziativa a livello nazionale, una sperimentazione per fronteggiare il coronavirus che ha avviato un protocollo di ricerca che prevede l'utilizzo terapeutico sui malati critici del plasma iperimmune di pazienti convalescenti e guariti dal covid-19. C'è stato un grande interesse, spiega la Nazione, il professore Francesco Minichetti, direttore dell'Unità Operativa di Malattie Infettive, che pochi giorni fa ha lanciato l'iniziativa insieme al governatore Rossi. Tutti vogliono contribuire, una generosa disponibilità. Adesso ci concentreremo per riuscire a trasformare tutto questo in donazioni utili. Speriamo di poter presto concretizzare. I convalescenti donano la parte liquida e non cellulare del sangue, se ha così un plasma iperimmune con molti anticorpi neutralizzanti il virus. Secondo il processo, il donatore fa la plasmaferesi. Questo viene poi raccolto e trasferito all'officina del sangue, dove è sporzionato e verificato con i test di presenza di anticorpi. Questo tipo di plasma, per uso terapeutico, sarà usato per i pazienti più gravi, quelli che non reagiscono, non lo fanno in modo sufficiente. Un aiuto naturale, insomma. Se la sperimentazione darà i risultati sperati, si potrà eventualmente pensare alla produzione industriale di plasma o di gamma globuline iperimmuni, a titolo noto di anticorpi, seguendo l'iter che in passato è stato utilizzato per il tetano o per l'epatite B.